Cosa si può fare? La notte scorsa c'è stato un incendio che ad ora ancora non è stato spento. C'è stato un comitato per la sicurezza provinciale questa notte per vedere come fare per incidere. Io ho sentito già Alfano e il ministro Mauro anche per fare in modo che lo Stato eventualmente ragioni sulla presenza di maggiori forze dell'ordine che facciano monitoraggio, vigilanza e che quindi possano impedire che si verifichi ancora una volta un incendio della portata di quello che è avvenuto questa notte nel Sannio. Purtroppo questo accade un po' dappertutto. È diventata la campagna terra di fuochi e noi non possiamo non tenerne conto. In questo caso probabilmente anche l'eventualità di impegnare l'esercito come è stato fatto nel passato dovremmo considerarla come ipotesi.